Presentata a Teramo la 43esima stagione dei concerti della Primo Riccitelli, sette spettacoli di ottima musica in programma da ottobre a dicembre sotto la prestigiosa direzione artistica di Nazareno Carusi. Il Covid non ha dunque arrestato la cultura in città, è forse proprio così che si resiste nei momenti più difficili. Si parte il 24 ottobre con una star mondiale del pianoforte Beatrice Rana per arrivare al 18 dicembre con Fabrizio Bosso e Sergio Cammariere. È una stagione che vuole godere della più bella bellezza, mi scusi la ripetizione, di quello che la musica può darci e certamente la presenza di Beatrice Rana apre nel migliore dei modi. Voglio ringraziarla perché una star così straordinaria da un punto di vista culturale innanzitutto non stiamo parlando di marketing, stiamo parlando di vera e profonda cultura musicale. Ecco, lei che abbia voluto aprire la mia prima stagione musicale mi ha fatto un onore del quale le sono infinitamente profondamente grato. Lei ha scelto la nostra musica, qual è la nostra musica? Questa, questa è la nostra storia, questo elenco di opere, la grande musica, quella che quando noi ascoltiamo ci penetra dentro perché ci entra dentro i suoni, arrivano a noi e ci viene la pelle d'oca. Quella pelle d'oca dimostra che di fronte al capolavoro non è necessario che siamo musicisti, di fronte alla pietà di Michelangelo non è necessario che siamo scultori o critici d'arte, ci penetra, ci possiede, è la nostra radice che ci dà la vita. La bella musica della Riccitelli ha scelto luoghi idonei per farsi ascoltare in sicurezza, l'Università di Teramo, la Sala Polifunzionale, il Teatro Comunale e la Cattedrale. La Presidente Alessandra Striglioni Netori spiega che la nuova stagione sarà diversa a causa delle misure imposte dal Covid, ma non per questo bisognerà rinunciare ad ospitare in città bei concerti. Sette concerti fino a Natale, la Riccitelli riparte alla grande. Per quello che può, considera anche che noi quest'anno ovviamente per difficoltà legate naturalmente alle misure anti-Covid non possiamo per il momento e sicuramente non fino a gennaio organizzare la stagione di prosa perché i costi della prosa sono estremamente rilevanti e quindi con limite massimo di 200 spettatori almeno fino a gennaio che è il termine che ci siamo dati per vedere in sintesi quello che succede col problema delle misure di contenimento, aspetteremo, vedremo, speriamo di poter fare una piccola stagione ridotta. Senza abbonamento però? Senza abbonamento sempre per l'analoga motivazione perché il limite di capienza massimo, quale che sia la struttura di 200 spettatori e di fatto la Riccitelli ha raggiunto negli anni più o meno il numero di quasi 200 abbonati, i concerti sarebbero esclusivamente per gli abbonati, il che non avrebbe senso.